Ragazzi questo è il mio primo video come saprete io sono nuovo su youtube perché non lo saprete diciamo che mi state vedendo diciamo che state sapendo alcuni miei amici non mi ha fatto delle domande e mi ha chiesto dragon che sarebbe il mio soprannome tu hai fatto qualcosa a scuola di grado che chiamano i genitori io ma rispondo tutte queste domande con voi buona missione ragazzi come ho detto prima i miei amici mi hanno detto dragon ma tu hai fatto qualcosa quello che ha chiamato i genitori ragazzi mi dispiace però si hai mai baciato una ragazza forse che ci dovete pensare che ci devo pensare ci ho baciato una ragazza si dragon poi me l'ha fatto un'altra dragon tu no hai mai come lo posso dire rotto un televisore una televisione no questo mai e dragon un'altra ancora da un maschio tu no hai visto molti altri youtuber me ne puoi fare dare i suoi nomi si poi ci sono altri che mi ricordi nome comunque sono tipo 10 poi alcuni giorni farò anche video sui giochi che sono royale e su altri molti giochi interessanti intanto continuiamo con le nostre domande è detto dragon tu hai mai fatto un video su youtube io potrei dire di sì perché questo è il mio primo video su youtube quindi dico di sì però con la volta mio amico le ho detto di no eh ovviamente comunque mi rivelo la mia età io ho 10 anni mi chiamo simone invece i miei amici mi chiamano dragon e malta se volete un altro video iscrivetevi mettete un like condividete condividete ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao ragazzi